Promuovere la sicurezza stradale sin dalla tenera età per formare cittadini responsabili e attenti. E' questo l'obiettivo del progetto Tutti Strada in Sicurezza, realizzato dalla Scuola dell'Infanzia di Favignana in collaborazione con la Polizia Locale. L'iniziativa ha coinvolto i bambini della terza classe. Attraverso lezioni interattive, giochi educativi e simulazioni pratiche, gli alunni hanno appreso l'importanza di attraversare la strada in sicurezza, l'uso corretto dei segnali stradali e l'attenzione verso i pericoli del traffico veicolare. La Polizia Locale, in sinergia con il corpo docente, ha offerto un supporto specialistico e competenze tecniche per garantire un apprendimento efficace e coinvolgente. Abbiamo spiegato ai bambini che la strada è un luogo meraviglioso dove ci si incontra, si gioca, si fanno nuove amicizie, ma al contempo è molto importante che rispettino i segnali che sono sulla strada. Piccoli accorgimenti che sono alla base dei principi fondamentali per una sicura e corretta circolazione stradale. Una bella mattinata di educazione civica e io voglio ringraziare il comandante e l'intero corpo della Polizia Municipale di Favignano, oltre che l'istituto scolastico, per la collaborazione e per aver dato la possibilità di formare i bambini sin da piccoli al rispetto delle regole che poi in questo caso vuol dire anche rispetto della vita, rispetto della propria vita e di quella degli altri.